Con molto piacere. Come dicevo, professoressa Weasley, è un piacere. Piacere mio, professoressa. In qualità di vicepreside, è mio onore mostrarti la tua sala comune. Per di qua. È insolito che qualcuno inizi dal quinto anno. Sarà una bella sfida, ma sono certa che sarai all'altezza. Sì, professoressa. Questo è l'ingresso alla sala comune di Corvo Nero. Per entrare dovrai risolvere un enigma. Temo che non sarò di grande aiuto. Questo tipo di cose mi ha sempre confuso. Chi ha vissuto di più? Fantasma o poltergeist? Fantasma o poltergeist? Un non essere non è mai stato vivo. Ben fatto. Ora, entra e vai a dormire. Domani sarà un gran giorno. Tornerò domattina per accompagnarti alla tua prima lezione. Grazie, professoressa. Niente. Passa una buona prima notte a Hogwarts. Sogni d'oro.